In una serata particolare, arricchita dalla presenza di una trentina di persone con sede ufficiale in ristorante da Marchesi, presente nell'entroterra riminese, i soci del Rotary Club Nova Felti e Alto Montefeltro ci sono dati appuntamento per donare un defibrillatore al responsabile del settore giovanile della vice Nova Felti a calcio, Ivar Ricci, che risulta essere, tra l'altro, anche socio dello stesso club donatore. La serata è stata causa di un ritrovo tra amici e componenti dello stesso club, ma anche un'occasione per divertirsi e parlare di sport e salute, unendo un connubio vincente con la donazione di un defibrillatore è diventato strumento indispensabile, soprattutto per una realtà come Nova Feltia, che dispone di tre impianti di gioco e allenamento, dove oltre 27 tesserate della prima squadra vi fanno parte circa 200 giovani che rappresentano le formazioni giovanili. Conviviale numero 645 del Rotary Club Nova Felti e Alto Montefeltro, siamo nella nostra sede, il ristorante da Marchesi, il turista. Questa serata è stata dedicata, tra l'altro, anche alla donazione all'associazione Calcio Nova Feltia del defibrillatore per i calciatori della squadra. Il club comunque nasce nell'89 da un gruppo di imprenditori locali di spirito e di buona volontà che hanno fondato il Rotary Club Nova Feltia e Alto Montefeltro. Allora, in questa serata doniamo il defibrillatore all'associazione Calcio Nova Feltia nella persona del presidente Ivarrici. Ringrazio per questo gradito dono da parte del Rotary Club Alto Montefeltro nella persona del presidente Marani Marco. Non deve ringraziare solo il presidente ovviamente ma tutto il club e tutti i soci del nostro bellissimo Rotary Club Nova Feltia e Alto Montefeltro.